Giorno Tu lo sai, tu lo sai fin dove partivano la gente due giorni fa? Sai da dove partiva la gente due giorni fa? Allora, piovere, direi che sta piovendo. E due festeggi. Oh my god! Sì! 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 E' no! Parti rimb Arena Dun Jakarta Sì! 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 Oof! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti